Si leggono tra tanti commenti e vari appelli su Facebook di gente che è al collasso, non sa più se avrà la possibilità di riaprire. C'è un rischio concreto di chiusura e le chiusure, come si sa, per tutti gli autonomi repartitevi, poi non sono mai a costo zero. Bonus di 600 euro, prestiti agevolati con garanzia dello Stato e posticipazione di alcune scadenze. Queste le misure contenute nei decreti cura Italia e liquidità, a sostegno di lavoratori autonomi, professionisti e partite IVA. I provvedimenti però rischiano di essere inadeguati e finora, denuncia il Movimento Autonomi e Partite IVA, non sono stati nemmeno applicati. Le misure sono totalmente insufficienti, intanto perché al momento sono soltanto annunci. Si è parlato per tanti versi di aiuti di un 600 euro per gli autonomi e le partite IVA che ad oggi non arrivano. Mi auguro che arrivino a breve. Questa disponibilità al credito, che per il momento è solo una promessa, diciamo così, anche perché il vero accesso al credito completo non c'è stato. In questo senso noi ci sentiamo totalmente discriminati in base a un'appartenenza di categoria. Si è parlato anche di rimandare le spese di luce, acqua e gas, ma il governo le ha rimandate fino al 13. Rimandare una spesa non è un aiuto, perché poi ci troveremo a pagare tutta una serie di cose insieme. Quindi parlavamo delle bollette, piuttosto che dei contributi, piuttosto che delle tasse. Abbiamo chiesto un dialogo al governo che non c'è stato. Nel 2018 in Italia si contavano 4,6 milioni di partite IVA, un primato europeo conteso con la sola Grecia. Due milioni e mezzo gli indipendenti costretti al blocco della propria attività a causa della quarantena. Secondo uno studio Svimez, il lockdown ha mandato in fumo 25 miliardi di fatturato e 4 di redditi. Noi chiediamo realisticamente che, così come abbiamo già chiesto, che il governo intervenga con almeno 1.000 euro mensili da marzo ad agosto, proprio per darci questa possibilità e un'indennità alimentare per mancati incassi da coronavirus, che vale per tutti, così come l'affitto e le utenze che siano accollati dallo Stato, proprio per questo periodo di chiusura obbligatoria, proprio perché c'è stata una riduzione dei recati concreti. Questa cevolazione al credito bancario garantito dallo Stato, così come noi abbiamo fatto, lo chiediamo ad alta voce perché ci sia una concessione seria da parte dello Stato. Ci deve essere un'abolizione di una tassazione per le piccole partite IVA, cioè fino a 100.000 euro.